Il 19 luglio 1870 la Francia dichiarava guerra alla Prussia, decretando così la mobilitazione generale. Migliaia di cittadini vennero richiamati alle armi, alcuni si arruolarono volontariamente in soccorso della patria, altri ancora scelsero la fuga verso i paesi vicini perché contraria a qualsiasi forma di lotta. Io in quanto italiano non avevo nessun obbligo militare, ma mi dispiaceva dover salutare gli amici diretti al fronte o perdere ogni contatto con altre persone. Nel frattempo, nella concitazione generale di quei giorni, tra comunicati del governo, notizie frammentarie e accese dichiarazioni sui giornali, la capitale si preparava alla guerra. In poche settimane le abitudini dei parigini mutarono drasticamente. Chi poteva faceva scorte di cibo, favorendo l'aumento dei prezzi del grano e dello zucchero. Sorse subito un mercato nero che consentì a prezzi più che raddoppiati di trovare tutti quei prodotti sempre più rari. Per strada regnava l'eccitazione generale, i politici più in vista organizzavano comizi in cui spiegavano le colpe della Prussia e la sera nessuno aveva più voglia di fare Baldoria. Per questa ragione molti locali restavano chiusi, mentre altri resistevano provando a ignorare la gravità della situazione. Sembrava che il mio peggiore incubo si stesse concretizzando, non solo col timore di dover resistere a quei giorni così difficili, ma soprattutto per la grande difficoltà di gestire l'attività. Per questa ragione scrissi un telegramma a mio padre per comunicare l'impossibilità di proseguire, anche se avessi tentato di commerciare, esportando solamente prodotti francesi, le difficoltà di trasporto sino al confine e le difficoltà di rintracciare i fornitori e gli artisti non avrebbe consentito un lavoro ordinario. Così dovetti chiedere con estrema amarezza un sostegno economico in attesa che la situazione si risolvesse o che divenisse più chiara. La mia famiglia seguiva con preoccupazione l'evolversi delle notizie del fronte, mantenendo l'ipotesi di un sostegno alla fuga in caso di pericolo. Ma io non potevo fare altro che dissimulare le preoccupazioni, ripetendo a ogni lettera l'intenzione di restare per preservare il capitale e le proprietà. Nei primi giorni di agosto giunse la notizia di una vittoria francese con la quale il generale Frossard e il maresciallo Besin avevano respinto il quarantesimo reggimento prussiano e la sedicesima divisione di fanteria, permettendo così la conquista della città di Saarbrücken, subito dopo il confine. Ma la risposta dell'esercito prussiano fu immediata, con notizie di scontri a Vert, a Spikeren, che fecero arretrare, oltre ogni dire, le armate francesi, inducendo il 9 agosto alle dimissioni del capo di governo Olivier. L'imperatrice Eugenia a quel punto nominò Charles Cousin Motaban come primo ministro e ministro della guerra, ma le sorti non sembravano polgere al meglio. Per più di un mese i giornali riportavano notizie di battaglie e spostamenti di truppe, ma non vera traccia di un vero e proprio avanzamento. Ciò che emergeva era una grande incertezza e un'incapacità concreta dell'imperatore e dei generali nell'affrontare il nemico. Tutto ciò stava generando nei parigini una forte sfiducia e un profondo desiderio di cambiamento. Se in passato era raro trovare persone disposte a criticare apertamente in buona parte, in quei giorni gli animi parevano infugati. Una nuova rivoluzione sembrava ormai prossima, almeno a detta di certe voci che giravano nella capitale. Maria a un certo punto disse con insolita convinzione che l'imperatore aveva i giorni contati e che questo timore era ciò che spingeva i generali francesi a resistere a ogni costo, anche a rischio dell'incolumità delle stesse truppe. Il 3 settembre Parigi si svegliò con una drammatica notizia. Le truppe del generale Mac Manon si erano dovute arrendere all'evidente superiorità degli avversari nella cittadina di Sedan. L'imperatore Napoleone III era stato catturato da Bismarck e le truppe accerchiate, disarmate e condotte nei campi di prigionia. Una folla di parigini indignati e colpiti nell'orgoglio sfilava per le strade urlando «Vive la France!» ma se da un lato la disfatta pesava sulle coscienze, dall'altro montava un senso di liberazione per la giusta fine del suo lungo regno. Si diffuse anche la notizia della fuga dell'imperatrice Eugenia, mentre una folla radunata a Place de la Concorde all'Hôtel de Villes imprecava contro il Bonaparte «Morta è Bonaparte!» oppure «Abbasso l'imperatrice spagnola!» Per chi conosceva bene gli avvenimenti storici, sembrava di rivivere i giorni della rivoluzione del 1789, perché gli sguardi della gente, la frustrazione e il desiderio di libertà confondevano gli animi di tutto il popolo.